Taglio a segno unico universale per chi ha un modellese con omissioni o difformità. Subito sotto alla tutta la tabella del modellese trovate quella che è la data di scadenza. Tra l'altro serve il video così lo trovi anche in futuro se dovete andare a guardare. Trovi tutta la tabella del modellese subito sotto la data, quando sei andato a sottoscrivere la DSU, la data di scadenza del modellese. Sotto se trovi solo la firma del funziona del CAF a posto. Se vedi che c'è scritto difformità o omissioni, allora a quel punto troverai anche un codice fiscale sulla sinistra, tutti quanti i rapporti omessi e quindi da ripresentare in fase di modellese perché bisogna andarlo a ripresentare per non perdere quelle che sono le agevolazioni. Però che cosa succedeva con IMSS e soprattutto cos'è successo quest'anno? Molte persone hanno fatto il modellese 2022, l'assegno unico universale, poi entro febbraio 2023 hanno ripresentato il modellese per continuare a prendere le maggiorazioni ISEE. L'INPS quest'anno ha continuato ad erogare con tutte le maggiorazioni che ti spettano sulla base del modellese, anche le maggiorazioni dei modelli ISEE con omissione di formità. Però adesso si è svegliata e in una prima fase, con il messaggio che vi ho indicato nei precedenti, con i prendimenti video, ha detto che dovete ripresentare i modelli ISEE entro settembre, se no ritornate a prendere la base, qualcosina in più di 50 euro. Potrebbero addirittura poi richiederti anche i soldini di differenza, perché comunque quello potrebbe essere un ulteriore passo, come sappiamo l'INPS si sveglia e detta legge. Quindi che cosa succede? Succede che se tu non vai a ripresentarlo, l'INPS comunque fino ad oggi ti ha continuato ad erogare, quindi è sbagliato pensare che se c'è un ISEE con un difformità si fermava tutto? No, non si fermava nulla. Come anche la gestione delle università, tanti ISEE universitari con omissione di formità, diciamo l'Italia va sempre avanti un po' macchia di lopardo, quindi alcune università lo prendevano per buono, anche un ISEE con difformità e altre università invece i noti li mandavano a ripresentarlo. Quindi non si bloccava nulla se avevate un ISEE con difformità, però ora l'INPS si è svegliata e dice o me la regolarizzi o io vado ad erogarti il minimo e secondo me poi viene anche a chiedervi la differenza. Vedrete che arriverà anche un futuro messaggio e ai posteri andremo a vedere tutto quanto. Per le domande scrivetemi tutto quanto qua, seguimi, ciao! Grazie a tutti!